Perché scegliere un Family Banker Mediolanum? Io penso di essere un punto di riferimento per il mio cliente. Consiglio ai clienti giovani Banca Mediolanum, perché è una banca digitale e personale. Con il Banking Center il cliente si trova in banca semplicemente con una telefonata. Per la questione dei mutui la banca per me è fondamentale. I tempi di erogazione sono rapidi, dietro di me c'è tutta una struttura che mi supporta. Insieme a me pianifica le migliori soluzioni per i miei clienti. 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7. Dietro un Family Banker Mediolanum c'è tutta Banca Mediolanum. Banca Mediolanum, costruita intorno a te.